Obbligata a vincere. Fra sei giorni al Benelli la Vis non avrà altro risultato dopo che Arecanati si è giocata nel bonus di vantaggio che si era costruita sui leopardiani. Nella gara d'andata di spareggio play-out l'Arecanatese la spunta sul Pesaro per 1-0. Al Tubaldi decide una rete confezionata dai giocatori più scafati. Al minuto 41 è infatti il chirurgico cross di sbaffo a finire sulla testa di Melchiorri, perfetto in smarcamento e in cornata che valgono golle vittoria. Una rete che decide un match equilibrato con l'Arecanatese che parte forte, la Vis che si riequilibra cammin facendo e che gioca un secondo tempo di reazione non assistita però da tranquillità, precisione e opportunismo. Ho detto ai ragazzi di resettare immediatamente questa partita, analizzeremo domani dopo domani le cose positive e le cose negative e pensiamo alla gara di ritorno. Non è un risultato drammatico, nel senso che un pareggio uguale ci faceva stare lì tesi, anzi potevi pensare pure magari a qualche calcolo, in questo momento non possiamo ancora di più fare i calcoli e pensare a fare un gol più di loro. Dobbiamo rimediare a questo svantaggio e in casa davanti ai nostri tifosi cercheremo di regalargli una gioia. Oggi ho visto che sono venuti in tanti, li ringraziamo, erano un po' amareggiati a fine partita, ci sta e chiedo di passentare ancora una settimana e di venire in tanti allo stadio a dare una mano ai ragazzi perché ne abbiamo bisogno. Tra sei giorni al Benelli la Vis dovrà fare una partita diversa e servirà un risultato diverso per non far calare il sipario su sei anni di professionismo. Ci sta la sconfitta, potevamo sì pareggiarla perché non è stata una partita dove non abbiamo mai tirato un porto, dobbiamo cercare di liberarci da un po' di timore che nei minuti iniziali ci sono stati. Ripeto, risettiamo, pensiamo alla prossima gara che è l'ultima gara del campionato, è la gara della vita e abbiamo tutte le qualità per rimediare a questo mini svantaggio.